Chi ancora spera di potersi godere qualche giornata al mare sarà accontentato. Ritorna di fatti il caldo in Italia, Sardegna e Sicilia saranno le regioni più calde nel primo weekend di settembre. I picchi più alti si verificheranno in provincia di Ragusa e Caltanissetta, dove la colonnina di Mercurio sfiorerà i 38 gradi. Il caldo torrido farà tappa anche a Palermo con picchi fino a 37 gradi e 36 gradi ad Agrigento. La temperatura è superiore di 6-8 gradi rispetto alla media stagionale. E dai medici arrivano anche i consigli per affrontare questi due giorni di caldo, a fornirli il direttore sanitario dell'ospedale maggiore di Modica, Piero Bonomo. Gli unici consigli è quello di stare molto attento alle ore più calde e di bere tantissima acqua, di mangiare leggero, perché quest'estate abbiamo visto parecchie patologie legate al pancreas e molti ricoveri legati alle grandi abbuffate estive. Evitare di alimentarsi molto, poco e spesso, bere molta acqua e stare in casa specialmente nelle ore più calde.